FAULA 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 Ooooo che bello, sali tu, Matrisos, non sei madame a tutti e mamme no. cosa si manca di appuntere alle nostruzioni vera e vera? che la parla è della nostra dei farbè e tutto il suo vicendio che non vi ho fatto ma, massimalmente, la parla e la mia famiglia come è già capito, mi ha subito i lingui fu a Maria Vigella e mi ha impanato ma sono un bel di chi, non mi ha impanato e dicci, chi va? lei la me donna lei la me donna se metà e per fortuna vengendo a su mè di tos, che è ducca supportato tutta va avanti a sattesa che ciò va parla e mi ha impanato chi va? lei so fina c'è la nostra figlia bene, dite il cuore, fatti sempre, fatti sempre, forse gentile pubblico d'una terra siete che fra poco scorderete la favola natalissima dal tirolo, dal titolo, dal titolo ebbene io non conosco, eh? chi lo parla di tagliare il titolo? e' un po' a scuole col testo e' una storia molto, molto antica che si sperde nella notte dei tempi con la speranza che gli dada piacere, divertimento con la speranza che gli dada piacere e divertimento a loro anche oggi e' un po' a scuole, a scuole, a scuole mo' cazzo qui, ho scuole, chiedi, che l'ha faremo di lui e' un po' a scuole e' un po' a scuole e' un po' a scuole ma anche che non ti sa più che ti vuoi, eh, perché, per l'appunto io ci piego verso te, basta nemmeno lavorare! Oh, che delizia del gran buonore, n'essere in faccia di tutti voi! Sono felice, e c'ho il batticuolo, come dopo un piatto di risa e cuore! Ma io ho poesia, io farò bene. Ma chi lo ha dato loro? Guarda che bello è qui, ma è natura vera, eh! Hai capito? Adesso, posso mettere in sfera! Guarda, guarda. Guarda che bello! Guarda che buttare la compldata e lui? Guarda? Guarda che fai dante la scuola, ma? Guarda che fa riparere! Guarda? Guarda, stai facili. Guarda che stai facili, facili spiola! Guarda... guarda... Guarda, guarda! Guarda, guarda, guarda? Sì, sì, è superi, ma è un peccionio, stiamo a me non è lì, ma è un peccionio. Da quant'è la furtura? D'un peccionio. D'un peccionio? 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 Arobioep bizzare so wirdse la mezza vient non me mi vede il piccolo lucratore. D'un peccionio dove ha fare la mia l forty operazione? E' un peccionio treat! D девi e che la kepcionio e venorsi la mia倍 acquistano? D'un peccionio? D'un peccionio? E' un peccionio? V skipping avanti? C'è un peccionio che ti aerma? E' proprio la famiglia foccia a quel me deccionio, ma che venne o queste fare? Me vesti? Ma fai, ma fai! E' una maniera più scolita sulla gente del pubblico! E' uno sponso! Ma tu stai a me? Io mi sto a penore! Ah beh beh, solito al pubblico eventuale! Eh? Solito al pubblico, la gente! Ma quanti? E beh, soliti no! Ma che mangia lì? Ma no! C'è la storia del bambino! La storia del bambino? Esatto! Tu la ciasc'ho cominciato! Esatto! E' una storia del bambino! 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 Esatto! E' una storia del bambino! Detto! Cometsa! E saprai che tage andage a poi tocca a man dell'ambastanza del quale è il mio uomo Sì! Allora andò al metodo di Gerusalemme Per i bandi in I seeks Master e una volta che l'havavano dirlo andava a l'osto e a due o quattro mesi l'amico per la cura d'osto, a quanti mesi tuc, c'entra niente in un po' avanti e perchè l'ha assaggiat il personaggio principale d'astoglie ha divocato per l'aspiroso, per l'aspiroso, per l'aspiroso, per l'aspiroso, per la cursa e non iscriviasi nulla il tuo cielo, tu che ne ha vinto e il tuo cielo, tu che ne ha vinto andai un capace portarello ho giocato piccate e a qui che sei non ? eee, la assumlo parle che irritazione, chi è da qui? ah ma infatti, e la fata! me la faccio guardando, mi tocca escapa in montagna No, no, no! Ohhhh! Tutti nel rifugi da questa parte! Prima le donne e i bambini! Ohhhh! Oh no, ma guarda il quartiere, io lo sentivo! Un pochino che lo ha portato a guardare! Chi? Chi è? Chi è? Che no, eh! Se mi senti, eh! Eh, eh! Gli era appena sorti da raccobberto Ah, lui può tenere! Quanto? C'è tanto il momento A sé a piastra di guaginò Chi è ben vestito? Chi è finito? 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 Tutti i capi di casa Dovranno fare l'incersamento Per essere registrati Nel grande libro imperiale Diccavi! Noi no! E te? Allora, me? Subito! Ma dopo che tu vuoi Non riesco a spiegare di più E qual è l'incersamento? Che vuol dire Che tu sei papà mia Gli hanno adesso per scrivere Perché? Perché? A Roma L'imperatore Noi sarei Tutti gli uomini Cuglioni Ci sono suoi Perché? Ah! Il sentimento! E' l'incersamento! E poi anche il cucinale Eh! Ma perché Gli hanno intorno? Perché? 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 Che scrivesi E' l'incersamento E' l'intensazione Ma che dovete Pagare in un'altra La tassa La tassa La tassa La tassa Ma che vuoi La tassa La tassa Il tributo Dicca prima Ma che vuoi E' l'intensazione Il tributo Tu hai fatto una tassa C'è una tassa Ma che vuoi E' l'intensazione E' l'intensazione Ma che vuoi E' l'intensazione adesso, perché la voglia di formare nel pavandevo, io si può mettere il formale, e poi, con cosa c'è, per l'uomo, potete fare la pasta per questi rivetti, eh? Ah, quanto che l'ho capendo, eh? Perché l'uomo è inostruissimo, eh? Grazie, grazie. Quattiva, eh? E venga a paglò. Do no, è mezzo. E voi almaformate, aspetta il treno che Orlando Ingeceину ritmano. Qual è laura della regia che definitely ci va interagere? Ah, cosa vuoi dire? statsmano liberi, eh? Eh, è che primaproce che dieci, eh, ci sono i menti giuse da cor. auguri da morte del Lule brothers e ti ascolta ma sei il personaggio e poi quanti capi ben saranno fa una roba fa un passafone per voi che siete ben saranno si che gli fanno la pelle e la carina e il suo padre ha ti capito? io non ho mai capito il passafone ma fai il stesso vado vado ma che l'ho vado 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 Questi due, siamo da lì a un regno, che lavorano in giro, in pataia, in questo modo! Avora! 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 Com'è? Ah! Noi sti da roba, eh? O basta tornare a greco! Che gondezza! Anche se noi s'usem, è sti da voglia! Un piccino, un piccino, un caffè, una farina passi a sé, e un lì sta consegnendo! Va, si m'ha boffetuta! Ciao! Vabbè, ciao! Allora! Allora! Es mio va che l'andarsi, amò! Allora! Non ho più importanza! Che lì no ritorniamo! E che devi da punti sul che scappa, eh? Allora! Ma guarda cosa non tuca, Santi! Te sai che ti devi da punti, ah? Quando hai a giro a piotto, valli giocare giocchetti! Eh, ma tutti i cibi! Eeeh! So, vengono lì e non ti posso farciare la mia! C'è un bel bel pafferone! Scalore! Salute! Salute! Sì, Ciao! Sì, ciao! Grazie a tutti. Hai visto come ce l'hanno trattato? I visi duri, freddi. Non è colpa loro, è tempo di miseria, di giustizia, la gente ha paura. Non ho spinto a sconosciuti, stranieri. Sarà difficile partorire in queste condizioni. Io ti aiuterò, ti starò vicino. Guarda, la tua strada va verso il bosco. Speriamo in qualche casa isolata. E mi fa male. E qui che scarpi, che raccarici. Forse vuole uscire. Vieni, vieni sotto a quell'ala. Starei più comoda. Vieni. E intanto andrò a sentare qualcuno che ci possa aiutare. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. carve, vieni. Vieni, vieni. 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 Se tu dici che fai il registro a sé, voglio aver dito niente. Manca un canto che sia il signor! Anche, un canto? Si. Che arriva, faccio un girantù, e la manzo, e la manzo, e la manzo a capo, io se la vado in canto! Dormì, la gente prende. Ma, si vedi un squelpe di schizio? E nulla, nemmeno a sapere, eh? Si deve più sperare un po' che c'è la confezione, e gli intervigli che finiscono, eh? E per l'ora stavolta, 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 che ci dà un giorno a capo, e io, un rival è morto, e ti dici, e gli slì, e gli ambo, e gli squit, e gli ambo, e gli ambo, e lì, eh? E lì, eh? Forza gilindro, forza! Ma hai il museo? Eh, un museo! Vieni qua nel segno aperto, eh! Noi sarai un engi! Abbiene anche la logica, spesso andrebbe stare a lei, eh! Qui, e io manca il posto, andrebbe dopo te! Forza! E' il giovane potere, eh! No! Ma se riesce! No, ma adesso vuoi anche io! E' il modesto faiame! No, ma... Ma non mi ricete? Ma non si scostiene, eh! Ma non è vero! Da nasa! Ma non ti fa bene! E' tutto lì che siamo per l'està, per tutto il giorno! Ma guarda che cerchiamo un asilo per stanotte! Eh, eh! Ma gloria, ma sta chiesto qua che voglio rupire un asilo senza lei, eh! No, ma veniva anche il rifugio! E' lì, e' la metoda! L'uomo, aspettano la strada! E' più bella pova, no! E' chiudono, eh! Eh, eh! E' una scavanta nota! Che lui, pastur, ai giù, per ripararsi del Campolò! E' più bella, e' dietro a fuori! Tu devi buttare lì! E' basta! Si è seccine! Ma, ma, benissimo, grazie! Ah, che gli scambi! una bestia vera che potrete scoprire anche il pubblico di suo asone. Certamente, Maria, Maria, chiediti. E questo signore ti ha indicato una roccia con della paglia dove potrete rinusare stamattina. Grazie, ma è molto lontano. Ma non lo so, ma non lo so. Che c'è parte con gente lì? Che è arrivato sempre? O basta, la forza è finita lì. Dov'è la domanda che hai mai scritto? Buon errore! Buon errore! Buon errore! Ah, no, no, niente! Fuggevo a me! Ah, mi lo scrivere! E io non c'è proprio il vostro? E Giuseppe! Chi ha? Da lì! Buon errore! Buon errore! Arrivederci! Buon errore! Giuseppe, che bella tu! Chi è? Giuseppe, che bella tu, tanto bella tu, tanto bella non ha testa come vuier il nello? Come tu per me okey! So, Giuseppe, tu dove te meti il pav e meti la costura e coscire! Grazie. 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 Che vuoi mi dò è? Girai niente, niente scusione. Non ti miso? No ti senti qui? Ascari. C'ώνate a fare? Viene la mia bella funcia, non pucole che passa di tutto. Ma che l'izio è la prima faccia questa immagine, non ti senti oggi, ma non ti senti appoggiata. Non ti senti appoggiata, io ho sempre. ma frate, come parlo? ma frate, come parla, qui avete la gente? e la destrite? e che sembrano in gioco? ma frate, come parla? e che cosa, Che è la gente, dell'Odys, dell'Eldis, dell'Eldis, dell'Anfergio, gusti po', allia! scusa un po' frate! e che ciò! All'è il gasco per... Che cosa vuoi fare? Che cosa vuoi fare? Mi fine ha già ben chiqui, capirà? Voi, voi bene, voi, voi... Ah... Si... Buon anno, eh? Ma fe... Guarda sì... Si, se manda sempre tre mi come... E il quino finito? Ma non finito, ma che è tanto più a quel cilindro? Un rima che dai? No... 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 Va, va, va... Guarda il problema, eh? Ma fate le avute per la patria valida, eh? Va, 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 va... Ma come fai già vai che me e aurelia? Sono ciondo su un po' steppini! Va, va, va... Grazie, papè! Grazie, ciao, ciao! Applausi Ma adesso, come c'è un pochino da noi... Vi ho finito al mentre ho? Di sempre non mi sono testi. Come le allievo! Anche le allievo i carili! Le crudele che quando allievo il punto di utenice e ve dite che lo ma è vinto! Quando allievo il punto di utenice e ve dite che non è la buona! devi capire, sai? Adesso guarda la domanda, ieri, oggi e domani, passato, presente e futuro. Da come fu ieri, picchi, giù e abbinati. E vedi che il gelino ha pagato la tua sfada. Ha ha che l'unità! Giove, morto, imperatore. E vedi che fa piacere, che bene, non sono già l'unità che fa. Futuro, tutti, su, stegli, sto, fu, vagabundo. C'è qui! L'ho mai visto la tua parella, fino ai capitelli che ho deciso l'acqua. Meno, terziolino, come, 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 ti c'ho?!" , è capitato! e mi ha capito che ieri di 되면 di��게요, non è mai capito! Ma cosa, maamera? Come c'è tema Century Draop? Ma, che scatare io se faccio di calcato a preghetto? Ma come questa aveva un chargesolo, eh? Ma che ti c'era tu! Ma, scatare io se tu le ne macchía bene listensi amette! Dico che stava per i miei, dico Dio, d'astraordinario! E beh, e che giù? Stavo a guardare di me, qui è stato? Spera tu una prima... Vado quel momento, assa, o sanna lui ci... Luminosa, lui, cosa? Com'è un cuore, dono? Cos'è il cane? Cos'è il cane? E tu ce la facendo? 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 Grazie a tutti. 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 Ciao. Ciao. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 prima. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. . 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